benvenuti a questa lezione di programmazione degli oggetti in cui parleremo dei dettagli implementativi dei tipi generici oltre a alcune indicazioni su come possono essere utilizzati in pratica e come sono utilizzati in pratica nelle librerie standard i tipi generici innanzitutto dobbiamo capire come java gestisce la trasformazione di tipi generici in classi normali perché è necessaria questa trasformazione sostanzialmente perché i tipi generici sono stati progettati in java in modo da essere compatibili con tutto quanto già esisteva quindi non è possibile generare un nuovo tipo di classe ma bisogna ricadere nelle casistiche precedenti in pratica il compilatore genera a partire da tutte le possibili varianti che possono esistere di un tipo generico un'unica classe e lo fa tramite un'operazione che si chiama erasure ovvero cancellazione per cui se io ho due oggetti di tipo pair di integer e pair di string in realtà entrambi sono istanze di una classe che si chiama row type che è pair quindi il compilatore cosa fa prende tutti i tipi che compagnano una dichiarazione di un tipo generico li cancella con un tipo più semplice più di base il risultato di questa cancellazione è quello che si chiama un row type quindi un row type è una classe generica in cui tutti i parametri di tipo sono stati cancellati e sostituiti con delle classi di base le loro cancellazioni potremmo chiamarle normalmente quando vogliamo fare riferimento a un row type utilizziamo il nome della classe la cancellazione di un parametro di tipo sostanzialmente corrisponde con quello che è il suo limite il boundary normalmente in assenza di boundary si utilizza object più in generale ad esempio qui abbiamo nel caso di t senza ulteriori specifiche abbiamo object nel caso in cui abbiamo t con un upper bound number allora t viene sostituito con number il suo upper bound se ci sono più upper bound questi vengono sostanzialmente utilizzati vengono cancellati e viene mantenuto soltanto il primo questo tipo di comportamento del compilatore ha una serie di conseguenze pratiche e di limitazioni che dobbiamo conoscere per poter utilizzare in maniera corretta i tipi generici quindi visto che c'è un'unica classe e non ci sono tutte le varianti quando siamo all'interno della classe generica o del metodo generico non abbiamo nessuna conoscenza di quello che è il tipo del parametro perché ce n'è uno solo e quindi non abbiamo tante varianti quindi sostanzialmente il tipo che è stato sostituito al posto del parametro è ignoto all'interno del nostro metodo o della nostra classe e quindi non possiamo utilizzare quel tipo in pratica tutte le volte che noi abbiamo un parametro utilizzato all'interno di un metodo di una classe automaticamente il compilatore mette un cast alla sua cancellazione alla sua erasure per cui noi potendo utilizzare l'operatore instance of avremmo dei risultati che non sono esattamente coerenti con quello che invece potremmo avere all'esterno della classe o del metodo generico per questo motivo è impossibile utilizzare instance of all'interno di un tipo generico perché ci darebbe dei risultati che potrebbero non essere corretti o comunque potrebbero confonderci l'unico cosa che possiamo fare è andare a utilizzare instance of con il row type piuttosto che con la versione con l'unknown che in pratica equivale al row type visto che non abbiamo nessuna conoscenza di qual è il tipo effettivo sostituito al posto dei parametri di tipo non possiamo neanche andare all'interno di un metodo generico o di una classe generica a istanziare degli oggetti che corrispondono al tipo t dove t è il parametro perché perché non sappiamo cos'è t quindi sostanzialmente il compilatore ci dice che non è in grado di generare un array del tipo generico quindi quando ho un tipo generico non posso creare oggetti di quel tipo neppure array di quel tipo visto che viene eseguita la cancellazione quando andiamo a valutare o meglio quando il compilatore va a valutare la correttezza di overload e override li considera al netto della cancellazione quindi prima procede alla cancellazione quindi l'erasure dei vari tipi e dopodiché scopre che ad esempio due metodi che apparentemente erano diversi in realtà sono uno duplicato dell'altro per cui void m di string e void m di string quindi questi due metodi sono sostanzialmente identici quindi non sono dei semplici overload ma sono esattamente lo stesso metodo e quindi è sostanzialmente duplicato quando abbiamo il punto interrogativo sostanzialmente lo eliminiamo e quindi non facciamo neanche una vera e propria sostituzione ma diciamo che quello è in pratica il row type quindi ci dimentichiamo qualunque dettaglio sui tipi un'altra conseguenza è il fatto che quando vado a utilizzare l'ereditarietà fatta l'operazione di erasure in realtà tutte le volte che io ho eredità da una classe generica in realtà non ce l'ho da quella classe generica ma ce l'ho dal suo row type per cui non posso o meglio corro il rischio di implementare o estendere più volte la stessa classe o la stessa interfaccia ad esempio se io dico che la classe student implementa comparable di student non posso poi andare a dire che la classe master student che estende student implementa comparable di master student perché andando a fare la type erasure student e master student vengono cancellati al loro posto viene messo object e quindi in pratica mi ritrovo ad aver implementato due volte la stessa interfaccia cosa che ovviamente è vietata quindi un altro aspetto legato alla type erasure è il fatto che il nostro compilatore è in grado di fare un'inferenza dei tipi questo però avviene all'esterno del nostro metodo o della nostra classe generica avviene tramite un meccanismo che si chiama il type inference di cui avevamo accennato già parlando delle funzioni lambda la type inference sostanzialmente permette al compilatore di inferire quelli che sono i tipi argomento corretti andando a fare sostanzialmente a ricavare quella che è una capture ovvero un tipo che lui ipotizza essere una sostituzione corretta per un parametro di tipo in un metodo di una classe generica a volte quando ho a che fare con i metodi io posso utilizzare quella che si chiama un type witness ovvero andare a utilizzare un punto il parametro di tipo che io voglio andare a sostituire e poi il metodo in questo modo sostanzialmente vado a dire sostanzialmente che nel metodo sort generico sto utilizzando come parametro di tipo student quando faccio un'operazione di inferenza normalmente vado ad utilizzare quello che è il target type ovvero se vado a segnare un risultato di un metodo oppure risultato di un'operazione di new a una variabile vado a vedere qual è il tipo di quella variabile quindi da lì deduco qual è il risultato la stessa cosa se invece di assegnare una variabile cerco di passare il risultato come parametro di una chiamata o un metodo quindi quello è una possibile traccia per andare a capire qual è il metodo qual è la sostituzione corretta per un parametro di tipo oltre a questo io avrò i tipi dei parametri che passo a un metodo o un costruttore generico per cui quello mi permette di andare a sostanzialmente inferire quelli che sono i parametri di tipo come possiamo andare a utilizzare i tipi generici e come vengono utilizzati nella pratica se ricordate quando abbiamo parlato di interfacce funzionale abbiamo detto che all'interno del package Java Util Function ci sono una serie di interfacce funzionali ecco tutte quelle interfacce funzionali che io vi ho raccontato in maniera molto sommaria in realtà in Java sono tutte interfacce di tipo generico per cui ad esempio se andiamo a parlare della interfaccia funzionale Function che ha un metodo che si chiama Apply ecco questo metodo ha un parametro di tipo T e restituisce un valore di tipo R dove T ed R sono entrambi dei parametri dell'interfaccia generica Function e la stessa cosa si applica per Bifunction, Binary Operator, Binary Operator, Predicate Consumer, Supplier tutti sono parametrizzati quindi sono classi di tipo generico scusate interfacce di tipo generico ovviamente quando parlo di tipi generici faccio sempre riferimento a degli oggetti quindi per questo motivo oltre a queste interfacce ci sono tutte le varianti con la possibilità di gestire direttamente dei tipi primitivi sostanzialmente int, long, double e boolean per cui ci sono to int, long, double, boolean, function type 1 to type 2 function, type supplier, type predicate, type consumer queste sono delle varianti che ci permettono di andare a gestire in maniera più efficiente i metodi perché in assenza di queste varianti che utilizzano i tipi primitivi ci sarebbe la necessità di generare delle classi wrapper e quindi l'operazione sarebbe un po' più costosa in termini di tempo e di occupazione di memoria negli esempi che avevamo visto relativamente ai nostri usi dei metodi reference io vi ho definito una serie di classi o di interfacce di supporto in realtà utilizzando tutte le varianti che ci sono con i tipi generici praticamente riusciamo a utilizzare delle interfacce funzionali semplicemente facendo riferimento a questo insieme di interfacce funzionali predefinite per cui, ad esempio, quando avevo parlato del method reference xdigit 2.2.charet dove ho un oggetto e ho il metodo che viene chiamato su quell'oggetto usando come parametro della interfaccia funzionale il valore che verrà poi passato a questo metodo in pratica io avevo proposto un'interfaccia che si chiama int to char function con un metodo apply in realtà quello che posso fare per poi poter andare a utilizzare questa funzione lambda in pratica è andare a rimpiazzare questa interfaccia con int function r apply int value e poi andare a utilizzare un int function di character questo sostanzialmente prende un valore intero e mi restituisce un valore di tipo character perché il valore è il tipo di ritorno r è il parametro della nostra interfaccia in maniera analoga quando faccio riferimento al string 2.2.lent quindi è il metodo lente che è chiamato su un oggetto string quindi io ho praticamente una interfaccia che prende una stringa e restituisce la la sua lunghezza invece di utilizzare questa interfaccia posso sostanzialmente sostituirla con un to int function che ha un metodo che si chiama apply as int che riceve un oggetto di tipo t e restituisce un intero ecco usando un to int function di string sostanzialmente restituisco un oggetto riceve un oggetto string e restituisco un intero in maniera analoga anche qui posso utilizzare un int function che prende un valore e mi costruisce l'oggetto integer quindi è un int function che ha come parametro integer quindi il parametro integer sostanzialmente è il tipo di ritorno della mia funzione apply anche l'abbiamo visto i comparatori sono ad esempio delle interfacce generiche per cui quando io ho un comparatore in realtà ho un comparatore di tipo t per cui i miei due parametri sono di tipo t non sono degli oggetti quindi ho la possibilità di utilizzare direttamente il tipo corretto senza dover fare un'operazione di cast questo ovviamente vuol dire che se immaginiamo di voler andare a ordinare un array di studenti posso semplicemente andare a dire a.id-b.id quindi facendo riferimento direttamente agli attributi immaginando che siano visibili degli oggetti studenti che cosa comporta questo tipo di scrittura? comporta sostanzialmente la creazione di una classe interna anonima analoga a quella che vediamo qua sotto con i due oggetti studente e l'accesso ai due attributi dei due oggetti in pratica quando io utilizzo questo meccanismo ho una serie di interazioni che sono riepilogate in questo diagramma di sequenza i diagrammi di sequenza vi ricordo sono dei diagrammi in cui io ho una serie di oggetti di quelli coinvolti nello scambio di messaggi e ho i momenti in cui i metodi di questi oggetti sono attivi ho lo scambio di messaggi tra un oggetto e l'altro ed ho il tempo che cresce sostanzialmente dall'alto verso il basso per cui se io voglio utilizzare un comparatore di questo tipo cosa faccio? innanzitutto creo il comparatore che può essere una lambda function, un method reference, quello che volete e utilizzo questo chiamando il metodo sort passando l'array e passando il comparatore a questo punto all'interno di arrays il metodo sort che cosa fa? andrà a ripetere un certo numero di volte l'accesso all'array con l'operatore quadre e poi chiamerà il metodo compare del nostro comparatore il quale andrà a prendere i due oggetti che vengono passati e andrà semplicemente a confrontare i loro identificatori quindi vedete che oltre al client sono coinvolti l'array, la classe arrays e il comparatore in questo scambio di informazioni inoltre, ve l'avevo accennato in una lezione precedente in generale io posso pensare di andare a costruire dei comparatori passando alcune informazioni per cui ad esempio all'interno della classe comparator esiste un metodo che si chiama comparing che accetta come parametro un oggetto dell'interfaccia funzionale function che si chiama keyget che sostanzialmente prende degli oggetti estrae una loro chiave e poi permette di fare un confronto utilizzando questo tipo di chiave quindi sostanzialmente quando io vado a utilizzare il metodo comparing vado a dire come fare a estrarre un valore da degli oggetti che voglio confrontare e poi sostanzialmente fare il confronto sulla base di questi valori estratti quindi in pratica io posso andare a fare un array.sort la nostra array ad esempio di studenti e poi comparing e qui vado a specificare come utilizzare e come estrarre i valori sulla cui base fare l'ordinamento quindi student 2.2.getID è l'invocazione del metodo getID sugli studenti che vengono utilizzati quindi ovviamente questo metodo verrà chiamato due volte per i due oggetti da confrontare il risultato sarà un ID e poi verrà fatto il confronto quindi in pratica che cosa succede? succede che andrò a fare un'operazione di return AB dove A e B sono i due studenti keygetter.applyA quindi vado a chiamare il metodo getID sull'oggetto A keygetter.applyB quindi lo chiamo sull'oggetto B da confrontare e poi prendo il risultato della prima applicazione chiamo il metodo compareTo e gli passo il risultato della seconda questa è un'operazione abbastanza complicata perché ovviamente andando ad utilizzare un'interfaccia funzionale il risultato di apply non è un int ma sarà un integer e poi su questo vado a chiamare il metodo compareTo quindi prendo lo studente A su quello studente chiamo il metodo reference student getID che sostanzialmente invoca il metodo getID su A il risultato lo convento di un integer chiamo il metodo compareTo a cui passo il risultato dell'applicazione sul secondo oggetto da confrontare in pratica in termini di diagramma di sequenza quello che ottengo è questo cosa succede? allora innanzitutto il client quello che vuole fare l'ordinamento andrà a creare un keygetter quindi l'oggetto per estrarre la proprietà in base a cui io fare l'ordinamento andrò a creare un oggetto compareTo utilizzando il metodo comparing della classe compareTo che sostanzialmente crea un oggetto di tipo compareTo quindi questi due oggetti il keygetter e il compareTo veranno poi utilizzati per andare a fare l'operazione di ordinamento quindi una volta che ho questi due oggetti il keygetter e il compareTo posso andare effettivamente a effettuare il confronto il confronto che avviene andando a chiamare il metodo sort passando l'array e il compareTo il quale ovviamente ha un riferimento al keygetter quindi all'interno della nostra classe Arrays del metodo sort in particolare che cosa succede? che per un certo numero di volte il metodo sort andrà a chiamare l'operatore quadre sull'oggetto array per andare a prendere le coppie di oggetti da confrontare e poi passerà questi due risultati al metodo compare del nostro comparatore il quale che cosa fa? chiamerà il metodo apply sul keygetter passandogli il primo oggetto studente questo cosa farà? chiamerà il metodo getId sullo studente e poi andrà a creare un nuovo oggetto integer poi farà la stessa cosa sul secondo oggetto da confrontare quindi chiamerà l'apply il keygetter chiamerà getInt e creerà un nuovo oggetto di tipo integer e restituirà quello dopodiché il comparatore chiamerà il metodo compareTo su uno dei due oggetti il primo che verrà creato passandogli l'altro come parametro a questo punto sulla base dell'esito di questo confronto che verrà restituito al metodo sort si deciderà se scambiare gli oggetti e dopodiché si passerà a confrontare un'altra coppia di elementi è ovvio che questa operazione è abbastanza complicata e soprattutto la creazione degli oggetti di tipo integer è pesante all'interno della classe compareTo è stato definito il metodo compareInt che permette di andare a fare dei confronti direttamente tra dei valori interi senza dover andare a passare attraverso gli oggetti wrap di tipo integer infatti al suo interno è prevista una funzione toIntFunction che invece di avere un risultato di tipo integer avrà un risultato di tipo int per cui la situazione è quella che vediamo qui viene come al solito creato un keygetter un compareTo compareTo che fa riferimento al keygetter dopodiché quando viene chiamato il metodo sort come al solito si accede alla coppia di elementi da confrontare si chiama il metodo compare del compareTo solo che a questo punto il metodo compare semplicemente chiama il metodo applyAsInt due volte sul keygetter passando i due oggetti da confrontare il risultato sono due interi viene fatta semplicemente la differenza e viene restituito il risultato sulla base del quale si potrà decidere se scambiare gli elementi oppure no ovviamente queste diverse alternative hanno tempi e soprattutto carichi di memoria molto diversi tanto per darvi un'idea se diciamo che 100 è il tempo necessario per fare un ordinamento sulla base di questa variante dove sostanzialmente faccio la differenza tra i due attributi quindi non passo neanche attraverso un metodo getter ma vado direttamente ad accedere gli attributi dei due studenti ecco la variante che utilizza i metodi getter ha una penalizzazione in termini di tempo intorno al 20% quindi il 20% di tempo in più è richiesto perché semplicemente utilizzo dei metodi getter per accedere agli attributi invece di accedere direttamente agli attributi stessi ok c'è un po' di penalità ma non è eccessiva se invece vado ad utilizzare il compareInt ecco vedete che in questo caso oltre alla chiamata del metodo getter prima ho la chiamata del metodo applyAsInt l'applyAsInt il quale a sua volta chiamerà il metodo getId quindi ho un passaggio in più ecco in questo caso 35% in più se vado ad utilizzare la variante in cui non ho il comparingInt ma ho il comparing per cui ho la chiamata al metodo apply il quale a sua volta chiama il metodo getId e il risultato viene confezionato avvolto all'interno di un oggetto integer che deve essere creato ecco in questo caso 85% di tempo in più senza contare il fatto che in quest'ultima variante utilizzo un sacco di memoria per andare a memorizzare gli oggetti di tipo integer e quindi è ovvio che sebbene lo possa scrivere in maniera molto semplice ecco è trasparente sostanzialmente non lo vedono me ne rendo conto immediatamente di quale penalità in termini di tempi di esecuzione ho nascosto dietro questo tipo di scrittura vediamo quindi come è evoluta la modalità di scrittura dei comparatori nel tempo seguendo le diverse versioni di Java che quindi hanno introdotto alcune semplificazioni di sintassi o nuovi costrutti se noi pensiamo alla versione iniziale quindi Java 2 non c'erano i tipi generici quindi il comparatore era basato sulla classe object quindi il metodo compare accettava due object e quindi era necessario fare il cast e accedere eventualmente agli attributi con Java 5 finalmente c'è la possibilità di avere i tipi generici e quindi posso utilizzare un comparatore di student e quindi utilizzare direttamente student senza più necessità di utilizzare dei cast quindi decisamente più leggibile di quello precedente ma ancora ho la necessità di mettere tutta questa quantità di codice di contorno per andare a specificare sostanzialmente questa semplice riga in cui vado a prendere i due id e faccio la differenza con Java 8 con l'intruzione delle lambda e dei method reference posso andare a specificare i miei costruttori in maniera decisamente più compatta quindi vado a riportare semplicemente il codice fondamentale cioè quello che prende i valori e fa la differenza oppure vado a specificare il metodo che deve essere chiamato per restare i valori per andare a fare la differenza ricordiamoci che soprattutto quando utilizziamo i comparing quindi non i tipi primitivi il rischio è quello di andare a introdurre un peggioramento significativo in termini di prestazioni utilizzando i tipi generici e la compattezza delle lambda è possibile andare a costruire dei vari comparatori quindi abbiamo visto il metodo comparing ma ce ne sono tanti altri ad esempio possiamo immaginarci un metodo reverse che riceve come parametro un comparator e ne restituisce un altro che semplicemente fa l'inverso in effetti esiste all'interno della classe comparator un metodo di default quindi può essere chiamato su un comparatore che si chiama reversed che permette proprio di fare questo quindi io posso se voglio ordinare degli studenti in base alla loro matricola ma in senso inverso posso fare un comparing student.getid.reversed un altro modo di comporre e di costruire dei comparatori utilizzando ad esempio il metodo del comparing anche questo è un metodo di default quindi può essere chiamato su un costruttore per andare ad aggiungere un ulteriore meccanismo di comparazione questo cosa vuol dire che a parità di ordine del comparatore che stiamo considerando entra in funzione il secondo comparatore per cui sostanzialmente cosa succede che fa un confronto in base al comparatore corrente se c'è una differenza allora semplicemente il risultato è quello altrimenti se ci sono dei pari merito va a utilizzare l'altro comparatore il dan comparing c'è anche con la versione in funzionale con il key extractor quindi l'oggetto comportamentale che estrae la chiave che semplicemente va a utilizzare l'apply del key extractor sul primo elemento sul secondo e fa un'operazione di compare to per cui se vogliamo andare a vedere come possiamo scrivere il confronto in base ad esempio cognome e nome senza questi metodi di costruzione dovrei andare a scrivere un comparatore che confronta prima i cognomi se sono diversi semplicemente è finito il confronto se invece sono uguali allora va a confrontare i nomi in alternativa posso utilizzare un comparing get last and then comparing get first se andiamo a confrontare queste due scritture vediamo subito come c'è un significativo differenza in termini di leggibilità ovviamente questo comporta anche una piccola penalità in termini di tempi di esecuzione in questo caso però stiamo parlando di una penalità molto più ridotta rispetto al caso precedente perché non abbiamo creazione di oggetti wrapper in ogni caso comunque dobbiamo chiamare i metodi compare to quindi la penalità in questo caso della soluzione questa un po' più leggibile è intorno a un 15% tanto per darci un'idea questi meccanismi di composizione che abbiamo visto applicati anche su i comparatori possono trovare spazio anche su tutta una serie di altre interfacce funzionali ad esempio se andiamo a considerare la classe predicate che sostanzialmente prende un valore e restituisce un valore booleano possiamo andare a congiungere due predicati con end or oppure con negate quindi diamo il valore negato di un predicato su una funzione ho i due metodi di default and then e compose che sostanzialmente eseguono una seconda funzione in catena o prima o dopo quella che stiamo andando a considerare quindi riepilogando per quanto riguarda la nostra panoramica sui tipi generici i tipi generici ci permettono di andare a definire dei parametri di tipo che quindi ti generano quelle che sono delle famiglie di classi o di metodi ovviamente queste famiglie non sono realizzate in pratica perché tramite il meccanismo di type ratio in realtà tutto viene ricondotto a un unico row type il grosso vantaggio è che io posso utilizzare tante varianti e avere soprattutto il controllo da parte del compilatore che garantisce l'omogeneità dei tipi e la correttezza dei cast e i cast soprattutto vengono fatti in maniera automatica dal compilatore invece di doverli scrivere direttamente ricordiamoci quando gestiamo i tipi generici che i contenitori generici sono invarianti ovvero se i parametri sono legati ad ereditarietà le classi che utilizzano questi parametri non hanno nessun legame particolare per cui se voglio utilizzare la possibilità di passare un oggetto di tipo generico con un parametro qualunque devo andare a utilizzare delle wildcard wildcard che comunque pongono alcuni vincoli su quello che riesco a fare con il tipo perché sostanzialmente l'informazione relativa alla sostituzione del parametro di tipo viene completamente persa e cancellata dalla wildcard però ho una grossa flessibilità come in generale ho una grossa flessibilità nell'andare a scrivere il codice utilizzando i tipi generici in generale di tipo di tipo di tipo di tipo